Dottori come alcuni cardiologi, alcuni nutrizionisti dicono che un po' di alcol fa bene. Allora sarà l'occasione per dimostrare che ciò non è vero e per avvertire i colleghi che per mille ragioni non sono venuti ancora a conoscenza di queste nuove evidenze scientifiche non potranno più permettersi di dare questi consigli non solo per problematiche etiche ma anche per problematiche medico-legali perché ovviamente l'alcol non è un farmaco e quindi non può essere prescritto. Il problema è che molto spesso tutti noi nell'ambito delle nostre discipline vediamo o solo il fegato o solo il cuore o solo il pancreas eccetera eccetera. Allora io come patologo potrei dirti che una tazzina di caffè al giorno fa bene al fegato perché è vero. Peccato che tre o quattro aumentano il cancro del pancreas. Allora noi tutto ciò che non è farmacologicamente validato da studi prospettici randomizzati e tutto quello che bisogna fare non possiamo consigliarlo, tantomeno l'alcol. E chi ha invitato i cardiologi? E verranno soggetti, sì verranno... Anche il medico di famiglia? È un'attività multidisciplinare però verranno soggetti molto importanti a livello nazionale. Sì? Sì, sì. No, io dico dottore ma lui ce l'ha due guardie del corpo? Ma forse anche più di due, non lo so. Dottore in tutte le reti nazionali c'erano dieci minuti di notizie sul vino, chi lo fa bene, chi lo fa male. Ho detto oddio guarda... Credo, ha detto come dire, è una sacrosanta verità perché sappiamo bene che comunque Gianni Testino insieme ad altri colleghi... Giorgio Schiapacassi in prima battuta. Ed altri hanno portato avanti quella, portato avanti con successo tra l'altro, quella così proposta di legge che poi... Ah ma non c'è diverso. È diventata comunque questa legge, quella appunto dei lavori socialmente utili. Sì no, ma parlo di lui che voleva che l'etichetta si mette... No, 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 no. Quello è un passaggio oltre, nel senso che è un passaggio successivo. Vero? Però ecco, questo forse è anche utile che lo sappiano chi ci sta ascoltando in questo momento, perché è una di quelle cose di cui appunto forse si parla poco e che forse pochi sanno fin tanto che non si imbattono nel problema, che oggigiorno c'è una legge che permette che qualora la persona venga fermata per articolo 186 del codice della strada, semplifico per la guida in stato di ebrezza, possa comunque accedere delle misure alternative di pubblica utilità che gli permettano in qualche modo l'estinzione del reato nel momento in cui si attiva personalmente, tramite le proprie capacità, a in qualche modo rifondere quello che è stato il danno. Dottore, scusate. Brignolo, consiglio per gli acquisti. Prego. Sono bravo. Sì, bravo, bravo. Sì, bravo. Sì, bravo. Sì, bravo. Siamo con i nostri amici medici delle associazioni, allora il dottore Antonio Floriani ha parlato di quell'associazione che sicuramente è importantissima. perché andare a cercare chi ti fa quel... Sei rimasta colpita da questo. Moltissimo. Eh, lo so. Però sei rimasta colpita in modo favorevole. Sì. Mentre molti dicono, eh, eh, cosa... No, no, io favorevolissima. Soscita tanti interessi, quante perplessità, ma forse è normale che sia, perché... No, no, io no, sono molto, molto... Diciamo che sono temi che a volte vengono un po' affrontati, non dico per la prima volta, ma con questa modalità forse sì, per la prima volta. Anche perché si ne sente tutti i giorni che qualcuno ammazza una parente, eh. Poi sempre le donne, mi dice quante donne ammazzate. Eh, le donne sono particolarmente colpite. Sì, mamma mia. Però anche sulla scia, diciamo, di quanto dicevamo sul maltrattante, quello che diceva poc'anzi il dottor Floriani su queste attività di pubblica utilità, così il dottor Martinelli se ci ascolta non si arrabbia, seguono un po' questa via, cioè evitare degli atti punitivi che vengono vissuti come vessatori e quindi tradotti invece in attività utili, nell'ambito che vengono svolte nell'ambito della propria professione, ovviamente, al fine di far raggiungere al soggetto quella consapevolezza che ha fatto qualcosa di non giusto, cioè guidare con delle alcolemie elevate e quindi mettendo a rischio la propria vita e la vita degli altri. Adesso purtroppo il periodo è proprio favorevole a persone che bevano vino perché stiamo andando malissimo e aumentando... È vero comunque, la crisi economico-finanziaria dove le istituzioni non riescono a dare una risposta ai bisogni delle persone, un po' perché non ci sono le risorse, un po' perché abbiamo avuto tutta una serie, una classe politica... La gente beve, fuma... Una classe politica incapace di gestirci nel modo migliore ed è probabile, anzi sicuramente molti soggetti poi trovano, allora sì, nella bevanda alcolica, il farmaco per star meglio. Ma ti dirò di più, nella nostra regione dove abbiamo un numero di anziani soli particolarmente elevato... La compagnia... La compagnia... La soluzione... La soluzione... La soluzione... Parliamo spesso di giovani perché è chiaro che, come dire, sono la società del domani e quindi molti interventi si pensano, parlo a livello anche di prevenzione primaria e secondaria, rivolti alla nuovissima generazione. E' altrettanto vero quello che diceva appunto Gianni, che comunque anche le fasce di mezza età, ad esempio penso per chi trasgredisce quell'articolo del codice della strada, spesso sono persone di mezza età, nel senso 40, 50 anni, così come gli anziani, soprattutto per quello che è l'uso o l'abuso alcolico, senz'altro va a colpire molto quella fascia. Quindi diciamo che la società è, questo mi ricordo le parole che diceva un'amica mancata qualche anno fa, che era Bianca Costa, che diceva le droghe sono democratiche, nel senso che vanno a colpire veramente tutti. Oggi mi viene un po', come dire, da modificare questa frase per dire che tutte le dipendenze, comunque anche l'uso di alcol è democratico, tanto più che forse a differenza delle droghe, essendo una sostanza legale, facilmente accessibile... Molto più di altro, addirittura pubblicizzata, addirittura dove c'è, come dire, incentivata, l'uso è incentivato, per cui è molto più facile accedere all'alcol e quindi al suo uso... Che costa anche tanto meno della droga. Anche, anche questo senz'altro. C'è da dire che, diciamo, i miei pazienti, che sono pazienti particolarmente preparati da questo punto di vista, sono giovani che ne sanno più di noi, mi dicono che alcune sostanze come la cocaina ormai è facilmente... Si costa anche relativamente poco, perché considera che oltre che la problematica alcol, di cui tanto parliamo, ma poi il dottor Floriani potrà aggiungere qualcosa sicuramente, sta aumentando a livello nazionale, ma nella nostra regione in modo drammatico l'uso della cocaina. Sì, verissimo. E soprattutto l'associazione cocaina-alcol è associazione con altre sostanze ancora, no? Diciamo, è vero, questo è un dato veritiero, un dato statistico nazionale, nel senso che lo si può facilmente verificare da quelli che sono appunto i resoconti ministeriali del Ministero della Salute e comunque degli organi preposti alla valutazione di questi indici. L'uso di cocaina è molto aumentato negli ultimi anni, molto aumentato perché il costo senz'altro si è abbassato, si sono un po' modificate anche le modalità di assunzione, non solo le sostanze. Si pensi agli anni 80, agli anni 90, dove la cosa che maggiormente faceva paura era l'eroina, era l'eroina perché ricordava un po' quello stereotipo del tossicomane che faceva uso per via endovenosa, quindi in una modalità molto cruenta, molto invasiva, molto sporca se vogliamo, che comunque lasciava un impatto anche visivo a chi girava per strada di trovare la siringa per terra. Oggi giorno, grazie anche ai programmi di prevenzione, se ne trovano molto meno. In realtà l'uso di sostanze non è che si sia ridotto così come può apparire, l'uso di eroina forse, come dire, come dato assoluto non ne siamo così certi. Come dato relativo, intendo rispetto ad altre droghe, è senz'altro venuto meno, ma soprattutto perché è aumentato il consumo di altre sostanze. Parlo delle sostanze sintetiche e alcuni casi di cronaca anche recenti della nostra regione ci portano, come dire, alla memoria sostanze come il mefedrone, sostanze che anche alcuni professionisti della salute non conoscono ancora, in quanto sono sostanze che spesso sintetiche o derivate da sostanze naturali, in qualche modo poi reinventate, riprodotte in forma sintetica, arrivano addirittura dal nuovo continente, dagli Stati Uniti. E quindi come... Sì, infatti, l'ultimo. Tanto nuove che non sono state valutate neanche dal Ministero e quindi non sono nelle sostanze coibili. Non rientrano nelle tabelle, non sono cosiddette tabellate, cioè sono sostanze che sono difficilmente intercettabili anche dalle forze dell'ordine, proprio perché non hanno quei criteri, come dire, di tossicità o comunque non è ancora stata valutata per cui non rientrano. Ma avete letto i giorni scosti nella mia strada, strano che non mi hai preso in giro, mi hai preso in giro tutti. In Viariese c'era, non so, 40 chili di droga nel Palazzo Cantor Mio. No, non l'ho letta questa notte. No, ha scritto nel quartiere bene della città, sì. No, ma brava, hai toccato un punto fondamentale. Il consumo di cocaina, voglio dire, non è che riguardi proprio le fasce più deboli o di immigrati, poveracci, che non hanno neanche le lacrime per piangere, riguarda proprio la nostra società bene. E ti dirò ancora di più che lavorando con il Tribunale dei Minori, con la dottoressa Maggia, dove abbiamo fatto una specie di accordo dove ci vengono inviati i ragazzini che vengono trovati in stato di ebrezza sui motorini, ma, devo dirti la verità, la maggioranza fa parte dei nostri quartieri, bene, Castelletto, Alvaro, Carignano. Anzi, ti dirò un'altra cosa, aggiungerò anche un'altra cosa. È vero. Molte popolazioni di immigrati, per motivi geografici e religiosi, non conoscono, cioè non conoscono, non utilizzano le bevande alcoliche, siamo noi che glielo insegnano. E' certi proibito per la religione. Sì, ma sono i nostri giovani ad insegnarglielo, quindi capisci, stiamo attenti a fare, a criminalizzare. Però loro guarda che gli islamici non lo bevono, eh. Puoi cercare di fargli tutto quello che vuoi. No, no, ma Franca, quando ti trovi in condizioni di disagio, che sei emarginato, che non sei... Estradicato anche dalla propria terra d'origine, dalle proprie culture. D'altra parte, anche a San Pierdarena, è vero che la popolazione equadoregna ha nella cultura l'utilizzo di bevande alcoliche, però in situazioni, dal punto di vista ambientali e sociali, drammatiche, ovviamente questo consumo sarà ancora maggiore. Quindi quello che bisogna fare è faticoso, lo capisco, è faticoso, ma noi non possiamo ormai... Se ne avete tanti stranieri poi? Ma il reparto cominciano a venire, sì, ma sai, ci sono problemi anche legali, legati al fatto che si possono no accedere alle cure ospedaliere, mentre al pronto soccorso possono no accedere. Anche il timore dei permessi di soggiorno, nel senso che comunque persone che sono in attesa di permessi di soggiorno... Ormai, Franca, sia l'Italia che l'Europa, la popolazione si sta riducendo. Siamo circondati, chiamiamola così, dalla popolazione del terzo mondo, non possiamo fare azioni di... Non possiamo respingere. Dobbiamo solamente ideare per le prossime decadi delle azioni di assorbimento. Ma come è diventato buono? Ci vorremmo anche a me un corso così. Ebbene, Franca. Ma è la realtà, no? Ma è la realtà che vivi tutti i giorni. No, ma veramente non scherzo. È la realtà che vivi... Ecco, no, è anche in questo, purtroppo... No, dico purtroppo nel senso che lo ripeto... Schiappacazze! Schiappacazze! Ma ha detto una volta, che ce l'avevo con una persona, dice, ma lascia correre, vedrai che poi fra qualche ora ti è passato tutto e vedrai che potrai anche ritornarne amico, così è accaduto. Come si chiama di nome? Giorgio. Giorgio, Giorgio Schiappacazze. San Giorgio c'è già, che è il santo della città, se non lo facevamo. E' vero. Ma Dato, lui non ci ascolta, se no sa rabbia da mattina. E ma glielo diranno, glielo diranno. Ma anche con me, ma anche con me sa rabbia, no. Ma no, ma no, non è venuto perché hai malati da visitare stamattina. E' vero, è vero. È un operativo, è un operativo, non è uno che fa solo teoria o... Non è che si è abbandonato, è un operativo. No, eh, figuriamoci. Anche perché queste trasmissioni servono molto, dottore. Perché anche se la gente non telefona, perché i miei ascoltatori sono un po' timidi o no, però loro guardano sempre. Gianni, lo sai, cosa ti hanno detto? Sei tornato con la brignola? Sei tornato con la brignola, c'era una coppia ormai che... Eh, sei tornato con la brignola. Chi sono un po' come la lanterna. Una visione ambita, insomma. E certo, è certo. Perché secondo me anche le televisioni hanno il compito di stare con la gente. E questa lo fa. Questa lo fa perché è nata proprio questa rete. Per la gente. Ad Antonio, ve lo ricordo, che è la prima emittente televisiva Ligure che ci ha dato spazio per fare questa battaglia sulle bevande acoliche. E' stata che ora sia diventata l'ultima. E' stata un'altra, diciamo, emittente dove la Franca era direttrice. E' stata 30 anni. E' stata la prima, diciamo, e attraverso di te poi siamo riusciti, è la verità, a conoscere gli altri media. Guarda, guarda Federico. Sì, Fede, salutiamo. Io devo dire che questo editore è molto attento. Infatti, in questa rete... Il dottor Monti. Il dottor Monti. Poi te lo presento. In questa rete si fa... Certamente spazi di questo tipo attraggono poco, diciamo, gli imprenditori e la pubblicità. Soprattutto perdiamo le case del vino. Soprattutto quelli degli alcolici e del gioco. Grazie a tutti, grazie, buon appetito. Grazie a tutti. Noi ci vediamo domani. Grazie a Federico che ci ha condotto. Noi ci vediamo domani mattina alle 10. Ah, quando vai in replica? Questa sera insieme all'altro, a metà. No, perché me lo fa dire in diretto. Grazie, Fede. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci.